cari amici buona giornata oggi ricordiamo un santo un martire san bonifacio che nacque in inghilterra divenne monaco e si dedicò alla evangelizzazione delle popolazioni della germania fu consacrato vescovo vescovo di magonza fondo anche un monastero celebre abbazia di fulda e fu ucciso il 5 giugno del 754 era il giorno di pentecoste proprio a causa della sua fede dunque imploriamo bonifacio perché sappiamo custodire con fierezza e professare con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e ha testimoniato con il sangue oggi continuiamo la lettura del vangelo di marco al capitolo 12 versetto 35 37 ricordiamo il contesto gesù è entrato a gerusalemme come primo gesto quando è entrato a gerusalemme è entrato seduto su un'asina ed è stato acclamato usanna il figlio di davide il secondo giorno della sua permanenza a gerusalemme gesù ha cacciato i venditori dal tempio segno profetico molto forte che implicava una sua autorità nel terzo giorno è stato interrogato più volte da farisei saducei erodiani scrivi sono state domande poste con cattiveria per farlo cadere eccetto quella rivolta dallo scriba che gli ha chiesto qual è il comandamento più grande ecco dopo tante domande che gli sono state poste adesso è gesù stesso che pone una domanda la pone direttamente agli scribi ai maestri di israele e la pone nella spianata del tempio davanti a una moltitudine di persone che ascoltano leggiamo allora il testo in quel tempo insegnando nel tempio gesù diceva come mai gli scribi dicono che il cristo è figlio di davide disse infatti davide stesso mosso dallo spirito santo disse il signore al mio signore sedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi davide stesso lo chiama signore da dove risulta che è suo figlio la folla numerosa lo ascoltava volentieri gesù dunque pone direttamente una domanda che contesta l'insegnamento degli scribi li nomina esplicitamente qual è l'insegnamento degli scribi che gesù vuole criticare gli scribi dicono che il cristo il messia è il figlio di davide dicendo questo essi si aspettano che il messia discendente del re davide riproponga come opera di salvezza la restaurazione del regno di davide liberando israele dal domini romano il nuovo messia instaura di nuovo il regno il regno che era stato del padre davide questa era l'attesa suscitata dall'insegnamento degli scribi questo si aspettava la folla dal messia ma gesù contesta questo titolo e dunque questa attesa la contestazione viene fatta sulla base della scrittura interessante questo riferimento alla scrittura gesù si riferisce alla scrittura come dice san paolo nella prima nella lettura che viene fatta nella messa la seconda lettera timoteo la scrittura ispirata da dio è utile per insegnare convincere correggere educare alla giustizia ed è stata la strada che lo stesso gesù ha percorso nel suo dialogo con il padre quella di fondarsi sulla parola di dio dunque cita il salmo salmo 110 un salmo che è molto presente negli testi del nuovo testamento cita una frase in cui dio si rivolge al messia e annuncia al messia la vittoria sui nemici si annuncia al messia un posto di gloria viene chiamato a sedersi alla destra di dio ecco citando questo salmo gesù sottolinea tre aspetti il primo che il salmo proviene da davide è stato composto da davide questa era la comune opinione al tempo di gesù la seconda osservazione è che dio si rivolge al cristo in questo salmo cioè al messia e davide riportando le parole di dio che si rivolge al messia chiama il messia mio signore dunque davide chiama il messia mio signore terza osservazione mai un padre chiamerebbe il figlio mio signore non era assolutamente pensabile che un papà si rivolgesse al figlio chiamandolo mio signore dunque se sono vere queste tre cose non si capisce nel salmo come il messia se è un figlio di davide possa chiamare possa essere stato chiamato da davide mio signore e dunque quella fede e quella certezza che il messia non avrebbe fatto altro che in quanto discendente di davide ripetere le gesta del padre ecco questa attesa viene contestata da gesù e gesù pone la domanda ma allora chi è il messia di chi è veramente figlio il messia che è chiamato da davide mio signore nel testo non c'è la risposta nel testo si trova soltanto che la folla lo ascolta volentieri e che invece gli scrivi stanno in silenzio non hanno ragione di rispondere la domanda evidentemente richiama la questione centrale gesù pone il problema della sua identità se lui è il messia in che senso è figlio di davide visto che davide lo chiama suo signore certamente gesù appartiene alla famiglia di davide però qual è la sua profonda identità questo è il tema di oggi chi è gesù gesù aveva posto la domanda sulla sua identità già precedentemente ai discepoli voi chi dite che io sia e pietro aveva risposto tu sei il cristo quindi tu sei il messia a tre dei discepoli poi sul monte nella trasfigurazione era stato rivelato una identità ancora più profonda però gesù certamente è il messia ma perché è il figlio amato che deve essere ascoltato è il figlio di dio dunque non è il figlio di davide è discendente di davide ma l'altura profonda di gesù si apre a un mistero e così quando gesù verrà portato davanti al sinedrio e il sommo sacerdote gli chiederà ma di di chi sei tu sei forse il cristo la risposta di gesù è sì io lo sono e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nuve del cielo ecco vedete il figlio seduto alla destra della potenza cioè di dio si compie il salmo in questa proclamazione di gesù davanti a caifa proclamazione che gli causerà la morte dunque l'identità profonda di gesù qual è chi è per noi colui che è stato chiamato da davide mio signore e noi sappiamo che la vera proclamazione di fede circa l'identità di gesù giungerà dopo la passione nel momento della morte di gesù attraverso la testimonianza di un pagano e cioè un pagano vedendo morire gesù dice davvero quest'uomo era figlio di dio ecco chi è realmente gesù è il figlio di dio per questo davide nel salmo lo chiama mio signore ed ecco che allora il cristo porterà il suo regno ma non sarà un regno che copia quello del re davide ma sarà il regno di dio la proclamazione che gesù è il figlio e che noi come quel centurione siamo chiamati a ripetere quest'uomo era veramente figlio di dio è una domanda che rimane aperta nel testo perché perché oggi ciascuno di noi deve rispondere a questa domanda chi è per me gesù di chi è figlio qual è la sua identità profonda noi sappiamo che la risposta la possiamo dare insieme con san paolo che per lui ha sacrificato la sua vita insieme con un martire come san bonifacio che per il nome di gesù il signore ha dato la vita ecco cerchiamo oggi di dare anche noi una risposta chi è colui al quale il re davide rivolge il titolo mio signore